Un nuovo indagato per l'esplosione avvenuta all'interno di Acciaierie Venete lo scorso 27 ottobre. Si tratta di un operaio che al momento dello scoppio era impegnato a manovrare la barra di comando che controlla la vasca con l'acciaio fuso. L'altro indagato è il direttore di stabilimento iscritto nel registro degli indagati poche ore dopo l'incidente sul lavoro che ha provocato tra feriti. Le accuse sono di lesioni colpose aggravate dalle violazioni sulle norme in merito alla sicurezza nel lavoro. All'operaio in particolare viene contestata la manovra sbagliata nel momento in cui l'acciaio liquido ad altissime temperature veniva sversato in un'altra vasca. La quantità sarebbe stata eccessiva e una piccola dose sarebbe finita in una vasca di raffreddamento contenente acqua che ha provocato la reazione e lo scoppio fortissimo. Le indagini effettuate dai tecnici dello Spisa al coordinato della procura che nominerà a breve anche un esperto per chiarire ogni aspetto di questo nuovo incidente all'interno delle acciaierie avvenuto a cinque anni di distanza da quello che provocò la morte di due operai.